Allora, buonasera a tutti. Parliamo di referto epidemiologico. Sì, sono Valerio Gennaro, sono medico epidemiologo, ormai in pensione, e mi sento un po' responsabile effettivamente di aver fatto nascere questo termine e questa legge, che peraltro è andata avanti grazie al merito di Alberto Zolezzi e di un sacco di altre persone che si sono date da fare perché avevano capito che l'Italia ha bisogno di utilizzare quella magnifica quantità di informazione che è presente quotidianamente nei vari computer, nei vari database, nei vari archivi, già in formato elettronico. E questi dati, che sono già utilizzabili per motivi burocratici, per motivi amministrativi, per motivi statistici o per motivi economici, ecco, è veramente un peccato che non vengano usati per motivi epidemiologici, cioè per sapere come sta una comunità. Noi dobbiamo sapere per tempo, e non come sta succedendo adesso in Italia, che abbiamo anche delle pregevoli pubblicazioni, pregevoli articoli, ne sto leggendo quotidianamente, oggi è arrivata una bellissima monografia della nostra rivista epidemiologia e prevenzione, che peraltro contengono dati appunto pregevoli ma vecchi. Ecco, noi non possiamo permetterci di avere dati vecchi, cioè o meglio il dato vecchio è assolutamente prezioso perché ci permette di avere un confronto naturale, quindi l'epidemiologia è questa disciplina che permette di studiare lo stato di salute di una comunità e quindi bisogna avere dei riferimenti, bisogna sapere qual è il riferimento di oggi, qual è quello di ieri, qual è quello di questa popolazione così come di altre popolazioni. Questo ragionamento, questa lettura simultanea con differenti occhi, quindi non soltanto quello di un epidemiologo che è quello che fornisce dei dati di qualità, ma quello del sociologo, perché no, dell'economista, del politico, del cittadino, del sindaco. Tutti questi soggetti sono persone che devono leggere tempestivamente questi dati, lo stiamo vivendo oggi, oggi con il bollettino della protezione civile che ci dice quanti sono ad esempio i morti in più e addirittura i malati in più rispetto a ieri e rispetto a quello che era all'inizio dell'epidemia. Ecco, noi dobbiamo imparare da questa situazione di emergenza e in questo senso vi chiedo scusa perché io da anni che parlo di referto epidemiologico e non ho avuto effettivamente la forza di controbattere in modo più energico tutti quelli scettici che dicevano ma lascia perdere, abbiamo cose più importanti che non fare delle statistiche o parlare di morti e malati perché abbiamo l'economia, abbiamo altri altri temi. Ecco, io comunque sono andato avanti, non da solo fortunatamente, devo appunto ringraziare Alberto Zolezzi, Barone ed altri che veramente ci hanno dato una mano, quindi è stato anche un aiuto anche molto ampio, quindi non soltanto circoscritto al Movimento 5 Stelle ma è stato molto diciamo pluralista, anzi abbiamo avuto la legge, è stata votata dall'unanimità e compie un anno questa legge, una legge che è semplicemente fatta ad out articoli, parla del registro tumori ovviamente che è un importante strumento molto sofisticato, molto utile però anche molto lento perché richiede appunto dei controlli che ad esempio il referto epidemiologico potrebbe non aver bisogno perché utilizza immediatamente dati già controllati che provengono ad esempio, faccio l'esempio di Genova dove in qualche modo è stato sperimentato, lo stiamo sperimentando da molti anni, con un'ottima collaborazione molto semplice con il servizio anagrafe del Comune di Genova, si riesce ad avere con un gap diciamo di circa un mese, al massimo un mese e mezzo, si riescono ad avere tutti i dati precedenti. Questo cosa significa? Significa che noi oggi possiamo sapere cosa è successo esattamente fino a un mese fa, ad esempio in termini di mortalità complessiva, specifica per età, specifica per sesso, specifica per anno ovviamente o per mese e addirittura specifica per area geografica. Tutto questo è molto semplice se non si chiedono, non si fanno fare al Comune perché non può, non ce la fa, sappiamo che la forza, il lavoro e le competenze sono molto limitate in questi anni di taglieggiamenti delle risorse del pubblico, il pubblico non ce la fa a fare dietro, però possiamo farcela noi. L'essenziale è avere e acquisire questa serie di dati che riguardano ad esempio i decessi, ad esempio la popolazione complessiva, con questi due semplici ingredienti, quindi già in formato elettronico, che distinguono quindi la popolazione dei deceduti rispetto a quella della popolazione residente, e distinti per sesso, per età, per area geografica e per anno, e con queste semplici caratteristiche che non includono quindi le patologie, che non includono nomi e cognomi ovviamente, che non includono altre analisi, ecco queste analisi possiamo farle noi come cittadini, come associazioni, come anche, perché no, anche enti ovviamente, che possono farle meglio e in modo molto più articolato, ma possiamo farle subito, quindi noi possiamo avere immediatamente il polso della situazione, perché è questo che dobbiamo avere, immediatamente il polso della situazione in termini di ci sono stati, nell'ultimo periodo, più decessi, più ricoveri, più aborti, più malformazioni, un uso di farmaci maggiore o minore rispetto al previsto, queste sono informazioni troppo importanti, che non possono essere dilazionate nel tempo, non devono rimanere negli archivi delle statistiche o delle nostre pubblicazioni internazionali, anche pregevoli, che però sono assolutamente irrilevanti in termini di sanità pubblica, noi dobbiamo traslare immediatamente alla sanità pubblica, alle amministrazioni, ai nostri sindaci, ai cittadini e perché no, in certi casi anche ai magistrati, le informazioni di sanità che risultano gravi in qualche modo, noi sappiamo e l'abbiamo verificato ad esempio a Genova che abbiamo dei quartieri regolarmente in eccesso di mortalità, dove risulta un eccesso di mortalità che non è attribuibile soltanto a una casa di cura, come qualcuno potrebbe dire, o all'effetto età, come qualcuno appunto cerca di, ingenuamente o no, di classificare, perché questo dato è ad esempio standardizzato per età, quindi noi possiamo immediatamente in ognuna delle nostre città italiane avere immediatamente il polso della situazione in tempo reale o quasi reale, cioè con gap di un mese o due mesi e avere tutto l'arretrato, tutto lo storico dell'informazione sulla mortalità ad esempio, perché questo è un patrimonio informativo statistico che ha il comune e noi lo elaboriamo e lo facciamo diventare appunto un'informazione epidemiologica, quindi quel comune saprà finalmente, come sa adesso Genova, che sui suoi 25 quartieri ne è 5 dove la mortalità ad esempio risulta in eccesso, una mortalità complessiva sto dicendo, non la mortalità soltanto per alcune patologie o tumori o qualcos'altro, che sicuramente va indagata, ma è un'informazione di secondo livello che richiede ovviamente più tempo, invece noi adesso abbiamo bisogno di sapere immediatamente che cosa, cioè quali sono i quartieri che stanno bene, quelli che stanno male, quali sono le popolazioni che stanno bene o quelle che stanno male, sapere anche il trend, queste popolazioni stanno migliorando o stanno peggiorando nel corso degli anni, sono tutte piccole informazioni che in realtà aiutano un'amministrazione a avere il timone in mano sullo stato di salute che è la cosa principale che c'è, ce ne accorgiamo adesso ma è troppo tardi, adesso siamo già in una situazione di emergenza, avremmo dovuto fargli un momento in cui l'emergenza non c'era, quando è nata questa legge ad esempio, cioè l'anno scorso, l'anno scorso questa legge è in vigore e non è stata ancora applicata, in realtà qualcuno l'ha applicata all'italiana ma in modo molto spontaneo, molto poco non aiutata, anche perché non si parla di risorse economiche. Ecco, noi non possiamo più non utilizzare, non avere come stella polare la salute collettiva, a prescindere quindi partiti, a prescindere da collocazioni o di malattie, noi dobbiamo avere una visione d'insieme, molto sintetica, immediatamente, quindi il referto, il termine è referto, non è diagnosi, non vogliamo lanciarci nella diagnosi immediata di uno stato di salute, ma vogliamo refertare, quindi vogliamo semplicemente segnalare qual è lo stato di salute a questo momento, come sta andando, quali sono i possibili raffronti immediati che possiamo avere, ad esempio i quartieri sono raffrontati, diciamo, semplicemente con la media cittadina, è una cosa che si può fare molto semplicemente rispetto alla media della provincia piuttosto che della regione o dell'Italia, si può poi trovare altri parametri, ma noi dobbiamo fornire immediatamente delle informazioni sullo stato di salute e questo dato deve essere tempestivo, cioè deve avere un gap, non dico istantaneo, giornaliero, come oggi in qualche modo si sta provando a fare con la mortalità fornita dalla protezione civile per il Covid, ma diciamo si può avere come grande obiettivo, come grande anche sfida, perché abbiamo ricercatori in gamba, abbiamo analisti, abbiamo un mondo di lavoratori che non è mai, non chiede la cassa integrazione perché non ha mai avuto lavoro, non so se ci rendiamo conto, noi stiamo piangendo per lavoratori che magari fanno armi e non stiamo minimamente chiedendo, chiedendo lavoro per chi fa ricerca sull'ambiente, sulla salute, sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni sociali. Ecco, noi questo è invece penso che sia la grande sfida, la grande occasione che abbiamo in questo disastro, in questo periodo diciamo di epidemia, ma mi sembra che lo stiamo capendo in molti e quindi se in molti ognuno per la propria parte darà il proprio contributo ce la faremo. Quindi il referto epidemiologico è uno strumento, è uno strumento adesso anche normato in qualche modo e io direi utilizziamolo perché diciamo è libero. Ripeto, i dati sono quelli semplici, quelli già acquisiti regolarmente dalle amministrazioni, quindi sono dati ufficiali, che se sono buoni per motivi di base, e base per me è un acronimo che significa semplicemente burocratici, amministrativi, statistici ed economici. Ecco, se sono buoni per questi motivi possono essere a maggior ragione buoni per motivi epidemiologici, che è una cosa molto più importante di quelli appunto amministrativi, burocratici, statistici ed economici, perché la salute collettiva, ce lo ricorda anche l'Europa, è il grande indicatore di progresso. Il progresso è far vivere tutta la tua popolazione tanto e in salute e per sapere questo dobbiamo ovviamente misurarla e quindi noi abbiamo tutta una serie di dati elettronici che ci permettono di sapere dal consumo di farmaci ai sintomi, ai ricoveri, ai decessi e quant'altro. Dobbiamo leggerli subito, possiamo farlo, dobbiamo farlo insieme.